Oh, magari il monitor ha visto qualcosa. Grazie per la TV. Dov'è finita la pizza che c'era dentro la scatola? È un giorno tristissimo. Già, e sarà ancora peggio quando la mamma scoprirà che le abbiamo mentito e abbiamo lasciato che qualcuno rubasse i nostri assurdi mobili. Un momento. La casa dov'è finita? Figliolo, ci hanno derubati. E sì, hanno portato via anche la pizza. Animali! Ma è impossibile, voi eravate qui ad allenarvi. Sì, non abbiamo raccontato una bugia. Come mai puzzate di... popcorn del cinema? Non è odore di popcorn, è il suo nuovo profumo. È una nuova fragranza francese, parfum de beurre. Smettetela, tanto vi ho visti al cinema. D'accordo, Max, ci hai scoperti, ma abbiamo un problema più grave. Ora dobbiamo trovare chi ha svaliggiato la casa. Sono stato io. Siete stupiti? Non volete che la mamma vi scopra, ma se vi interessa riavere indietro i mobili, dovrete diventare i miei schiavetti personali. Ci hai in pugno, Phoebe. Beh, almeno non ci ha chiesto di indossare delle ridicole divise. Oh, ti si è smagliato un collante. Io non li ho messi. Silenzio, schiavetti! Phoebe, sei il mio maggiordomo, perciò rifammi il letto. Avanti, fammi il letto, va! Letto! Che cosa ne dici di portarmi della carta nuova a Chantal? D'ora in poi ti chiamerò così. Ah, la voglio ridotta a brandelli. Come la tua dignità. Ma guarda...